Jenna Ortega sta con Johnny Depp. Aspetta, aspetta, aspetta. È stata la notizia degli ultimi giorni. Ma chi l'ha fatta girare? Qual è la ventà dietro questo gossip? Ecco, in questo video cercheremo di fare chiarezza, quindi mettetevi comodi e statemi a sentire. Jenna Ortega e Johnny Depp una cosa in comune ce l'hanno. Sono stati entrambi scoperti da Tim Burton in giovanissima età. Attori belli, bravi, di talento hanno ispirato entrambi la vena più magabra, se vogliamo, di questo regista. Dopodiché, però, gli elementi che li accomunano finiscono qui. Eppure c'è qualcuno che ha fatto girare la voce che i due attori, vent'anni lei e sessanta lui, si stessero frequentando. Ma chi ha dato la notizia e qual è la verità? Il primo a dare la notizia tra una possibile relazione tra Ortega e Johnny Depp è stato il portale Instagram Demois, specializzato in celebrità e gossip. Ma è anche vero che, leggo testualmente, nel 2021 in un'intervista a Vanity Fair, la persona dietro Demois disse di condividere semplicemente storie e articoli di gossip che gli venivano girate da persone dello spettacolo. Insomma, questo Demois ha raccontato che Jenna Ortega e Johnny Depp sarebbero stati visti uscire insieme, addirittura, in un appuntamento avvenuto forse durante le riprese di Beetlejuice 2, attesissimo sequel del cult horror degli anni Ottanta, firmato sempre da Tim Burton. In effetti il film è previsto per l'autunno del 2024, uscirà al cinema il 6 settembre del 2024. Ma nonostante le voci che sono girate in un primo momento pare non esserci traccia di Johnny Depp all'interno del cast, che conta tra gli altri Michael Keaton, Winona Ryder, l'ex di Johnny Depp, Katrina O'Hara, Willem Dafoe e naturalmente la stessa Jenna Ortega. Ma i gossip che piacciono al pubblico viaggiano come al solito a una velocità maggiore rispetto a quella che è la realtà dei fatti. E così nell'ambiente si è cominciato a vociferare di una possibile relazione tra Jenna Ortega e Johnny Depp, reduce tra l'altro dal processo per diffamazione con Amber Heard che trovate su Netflix in una docu-serie che sta appassionando tantissimi spettatori. Questa storia però è rimbalzata su parecchi siti americani ed è arrivata anche in Italia. A un certo punto Jenna Ortega è stata costretta a smentire anche con forza le voci che la vedevano protagonista di una relazione con Johnny Depp che ha 40 anni più di lei. Non che sia un problema per alcune celebrità di Hollywood, basti vedere Al Pacino e Robert De Niro, diventati genitori a 80 anni. In una storia su Instagram Jenna Ortega ha scritto È così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp in vita mia. Per favore smettetela di diffondere bugie e lasciateci in pace. Dal canto suo anche Johnny Depp ha smentito queste voci attraverso le parole di un suo portavoce. Mr. Depp non ha alcun rapporto personale o professionale con la signora Ortega. Non l'ha mai incontrata, né parlato con lei. Non è coinvolto in alcun progetto con lei, né intende esserlo. È sconvolto da queste voci infondate e dannose che hanno lo scopo di danneggiare la sua reputazione e la sua carriera. Una smentita piuttosto incazzata, insomma, che non nasconde un certo fastidio per un gossip che alla fine dei conti è tutto inventato. Anche se, come si dice in questi casi, due smentite fanno una notizia. Ma voglio sapere voi cosa ne pensate. Ditemi la vostra nei commenti se c'è la possibilità che questi due attori possano avere una relazione e, cosa ne pensate, delle relazioni tra una persona molto più grande e una ragazza, insomma, di 20 anni, con 40 anni di differenza fra i due. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione. Ricordatevi di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i prossimi video che pubblicheremo. Seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!